a un perfetto esemplare selvaggio di lupus gigantormus fammi capire bene tu vuoi inseguire questo coso drogarlo farlo possedere dallo sciamano e poi lasciarlo libero di far fuori le guardie grande no è davvero un piano a prova di bomba incanalando il potenziale distruttivo di questa creatura assetata di sangue potremo sfoltire i ranghi del barone nero in questo modo domani dovrai affrontare meno piloti nemici durante le finali ci sto a far girare la fortuna a nostro favore ma questo piano sembra un po' rischioso non direi ho modificato le frecce soporifere e ho aumentato la dose di balsamo di puzzola dovrebbero calmare la bestia sempre che non riesca a prendermi prima lei sembra tutto ok puoi tenerti fuori tiro e colpirlo da lontano beh dato il peso delle frecce dovrò arrivargli alle spalle e a quel punto sparare da pochi metri metri smetti di farmi paura e passa al vino come allo sciamano prima metto il lupo a nanna e poi toccherà a te grazie sciamano sai sempre cosa dire tu bello questo benzi mancato stai più vicino al lupo poi spara altrimenti le frecce finiscono a terra e basta sei troppo lontano per sparare grazie a tutti grazie a tutti grande questa era forte grazie a tutti 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 è fuori tiro devi stargli più vicino se vuoi colpirlo bene bel colpo cacciatore il balsamo di puzzola fa il suo dovere è quasi cotto sciamano tocca a te ora che è fuori gioco dovresti poter possedere il lupo gigante al ciali tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccellente! Ci sono buone probabilità per domani in finale. Grazie a tutti. La rete di computer racconta un'altra storia. E come pensi di arrivare lassù? È parecchio alto. Ho montato un post bruciatore extra sulla mia sedia turbo. Simile altezza e sono niente. Preparate i computer. Per fortuna sulla levetta analogica destra ho impostato dei codici hacker. Questi dati sembrano protetti. Sembra che debba lasciare giù il codice di sicurezza circolare. finalmente una sfida. E un altro cade davanti al mio kung fu digitale. Quattro! Quattro! pagina a un'altra storia. Anche a un'altra storia. Alla sono spaggia. Forza dilettante, inginocchiati ai piedi del tuo signore Sembra che questa volta non faranno molta resistenza Un buco nero digitale, dovrò aggirarlo con un software speciale Un buco nero digitale, dovrò aggirarlo con un prodotto Un buco nero digitale, dovrò aggirarlo con un prodotto E un altro terminale è terminato! Buon appetito! non preoccuparti amichetto mio sarò rapido e indolore non preoccuparti Ottimo! Ottimo! Alla torre di controllo! Quando ci sarò entrato, il sistema sarà mio! Per arrivare al computer devi usare il tuo post bruciatore ausiliario. Salta e attiva il post bruciatore. Facci piano con l'acceleratore. Dovresti avere abbastanza spinta. Il mio ultimo avversario! Sembra che abbiano tenuto i codici migliori alla fine e va bene. Dovresti avere abbastanza spinta! Setiiniz nRISHA iniz 진행amenti per campini! fantastico ho l'accesso totale aspetta il codice non è stabile sta accelerando tutto i mulini fanno scintille questo piccolo bug di sistema potrebbe farmi comodo